Non attacchiamoci ad alibi. Dunque, niente sonero, ma dimissioni. Nella sostanza non cambia nulla, nella forma tantissimo. Perché quando c'è di mezzo il denaro, sono davvero pochi a compiere un passo del genere. Colombo è tra questi. Rara Aves, persona di grande spessore. L'ennesima conferma nel giorno più triste, dal punto di vista professionale, quello della separazione. Si apre così ufficialmente lo Zemanter. L'ennesimo cambio, per la precisione, il decimo allenatore della stagione 2019-20, quando Zauri fu avvicendato dalle grottaglie, a cui nel finale subentrò Sottil. Quindi stagione 2021-22, Oddo, Breda e Grassadonia. Lo scorso campionato Auteri e Zauri, quest'anno Colombo e Zeman. Il Boemo torna a distanza di cinque anni dopo l'ingiusto esonero del marzo 2018, all'indomani del K.O. di Cittadella. Quasi un paradosso, perché al tombolato i Biancazzurri sfoderarono una delle migliori prestazioni di quel periodo. Tredicesimo posto, 36 punti a tre lunghezze dall'ottavo, ultimo utile in chiave play-off, ma anche una gara da recuperare col Carpi all'Adriatico. Con intelligenza il Boemo si adeguò ad una rosa non adatta al suo credo. Pensate, nelle ultime dieci gare del suo mandato appena otto reti al passivo, ma distribuite in quattro gare. Zero golli incassati in sei incontri. E' passato il lustro. Il prossimo 12 maggio saranno 76 primavera per Zeman, che lo scorso anno affoggia assieme al fedelissimo DS Peppino Pavone. Ha centrato il settimo posto con un organico costato poco o nulla. Finale di stagione in accrescendo. Due turni play-off superati. Sbancato il partenio Lombardi di Avellino. E poi l'eliminazione beffa agli ottavi ad opera dell'Entella. A Pescara Zeman subentra, come già accaduto in A febbraio 2017. Ma la situazione era ampiamente compromessa. 24 gare, appena 6 pareggi e ben 18 sconfitte, di cui quella di Reggio Emilia col Sassuolo tramutata successivamente in vittoria a Tavolino. Oggi, a nove gare dall'epilogo della stagione regolare, bisogna difendere il terzo posto e nel contempo migliorare condizione fisica, mentalità e aspetto tattico. Sarà in grado il Boemo di incidere in così poco tempo? Quanto più sarà flessibile, quanto meno integralista, tanto più potrà porre rimedio ad una situazione oggettivamente non facile.